E io come faccio a reagire? No, non è una sorpresa, ok? Ma io però mi devo mettere da lato Eh? Mario, da lato o no? Di qua, da questo punto Di qua? Siamo partiti Ho mezza piotta che fa sto video Non te più Marca madosca Siamo partiti E' difficile! E' difficile! Ehi! Ehi!